Ciao a tutti e benvenuti al mio primo video scusate l'imbarazzo e se non ci spiegherò un po' con le parole però cercate anche di capirmi io sono Sabu, come è scritto qua anche se su Youtube mi chiamo Yurimaniac per ovvi motivi che non vi sto a spiegare e oggi volevo spiegarvi che cosa sono i bootleg i bootleg, nessuno ne parla o se ne parlano sono solitamente in forum stranieri e molti dei cosiddetti otaku non sanno nemmeno di cosa si tratta il bootleg, in breve, è un cd o un dvd copiato da quelli originali senza autorizzazione e rivenduto da rivenditori stranieri per dire un cd è prodotto in Giappone e questi vengono rivenduti dal Taiwan, da Hong Kong, ecc sono originali in quanto a fattura ma non originali per quanto riguarda come si può dire io compro il cd di un cantante ma non è quello che ha autorizzato via la vendita non è della sua casa discografica ma di una secondaria quindi, nonostante vengano rivenduti come originali non lo sono per farvi un esempio molto pratico cosa è successo nella mia esperienza? ho acquistato un cd che adesso vi trovo ecco, la soundtrack di Final Fantasy VII XS Core come vedete, questo cd è originale lo dimostro anche sono due cd questi due cd originalissimi stampati stampati di per sé insomma, hanno tutte le copertine questi segnalini esterni che vengono inseriti di solito nei cd giapponesi un librettino veloce con qualche informazione delle illustrazioni, ecc cosa è successo? un bel giorno ho visto questa stessa host original soundtrack da un ragazzo che aveva un blog estero e ho visto che queste due immagini non erano affatto uguali alle mie allora gli ho chiesto scusa, ma esistono sul commercio più varianti di questa soundtrack? e lui mi ha spiegato appunto che cos'è il bootleg come potete vedere qua dietro, non so se si vede bene c'è scritto Mia Record Mia Record è una casa produttrice di cd, dvd, video, ecc che fa queste coppie esatte delle soundtrack di alt-dvd quindi sono bellissime da vedere sono perfette come libretto, come cd, come musica, registrazione e tutto ma non sono originali quindi in breve come riconoscere un bootleg ci sono tre punti chiave i bootleg di solito vengono rivenduti quelli di anime soundtrack di videogiochi, ecc da due grosse compagnie dal Mia Record e dalla Ever Anime non sono ovviamente i produttori originali giapponesi quindi secondo punto per riconoscere un bootleg quando lo andiamo a comprare su ebay o quando chiediamo al rivenditore scusa, da dove l'hai comprato? se ci risponderanno che i paesi da cui l'hanno acquistato sono il Taiwan e Hong Kong Hong Kong si scrive così, vero? forse Hong Kong forse Hong Kong, mi so ho un dubbio comunque se uno di questi due sicuramente non si tratta di un rivenditore autorizzato o meglio te lo spacciano per tale ma non è così ultimissimo consiglio è vedere sempre il prezzo una host originale appena uscita può costare intorno ai 50 euro per essere diciamo per esagerare se invece te rivendono a prezzi molto bassi che possono essere 10-15 euro a disco allora si tratta sicuramente di un bootleg quindi il terzo passo è prezzi molto bassi vorrei farvi ulteriori esempi ad esempio io sono una fanatica di Ayumi Yamazaki e ho acquistato quando ancora non sapevo cos'hanno i bootleg questo cd secret l'album di Ayumi Yamazaki che al suo interno contiene i cd registrati benissimo la fascetta esterna il libretto con tutte le canzoni le foto eccetera una fattura perfetta c'è anche il dv di video sono davvero magnifici come sound come visione però qua sotto vediamo che c'è qualcosa che non va purtroppo la mia fotocamera non registra benissimo però anche qua sul fianco voi non potete leggere ma fidatevi c'è scritto Mia Records che è appunto uno di questi due questo cd diciamo l'ho comprato giusto qualche mese dopo in una fia del fumetto appena ero uscito e l'avrò pagato 20 euro 20 euro perché 10 euro di cd e 10 euro di dv di video però ero ignorante sul tema sempre parlando della stessa cantante ho acquistato invece questa edizione speciale dell'album Miss Anderson edizione speciale perché contiene anche l'artbook of my day qui la mia telecamera farà altri scherzi comunque c'è scritto Avex Avex è la ecco forse qua si vede meglio no non è vero non si vede un cazzo Avex è il produttore discografico ufficiale di Yomi Masaki in Giappone quindi come via via ve lo faccio vedere questo è l'artbook il photobook diciamo ufficiale la collezione e le foto sono stupende ma se questa cosa l'avessi comprata da uno di questi due rivenditori senza saperlo la qualità fotografica e audio sarebbe stata eccellente comunque ma non originale originale nel senso più collezionistico del termine io avrei per esempio ecco sempre la stessa cantante scusatemi se vi rompo le scatole questo è un live il countdown live 2002-2003 e contiene al suo interno il ah non fate caso a questo il dvd qualità ottima stupenda il suo libretto allegato che è talmente uguale a quello originale ma ops anche qua c'è scritto che fa parte della mia record voi non lo vedete ma fidatevi anche questo purtroppo cari miei è un bootleg e io sono piena di bootleg davvero e senza saperlo mi sono diciamo aggiornata solo ultimamente su cosa significasse questo termine e nessuno ne parla su youtube nessuno ha fatto vedere l'ho detto perché non farlo io con la mia voce stupenda e con questa fotocamera che rende proprio niente di quello che dovrebbe fare insomma io sono molto per quest'ultimo argomento i prezzi bassi perché veramente la qualità si paga a volte però si esagera un po' ciò non vuol dire che io supporti le coppie tra virgolette pirata quindi se siete veri collezionisti e volete comprare cd originali al 100% controllate sempre una di queste tre se una di queste tre non funziona siete davanti a un bootleg se volete un cd originale fate attenzione che venga venduto dal giappone per chi è interessato alle host agli anime cose varie e niente il prezzo si paga Taiwan e Hong Kong anche su ebay fate attenzione vi rivendono bootleg sicuramente fatevi fornire delle foto del retro non so che cose basta che non ci sia scritto media record e veranime spero di avervi spiegato abbastanza questa storia io spero che la qualità audio vi sia piaciuta è stato il mio primo video ho detto ma perché non parlarne sono appena stata una fiera del fumetto ne ho visti moltissimi di questi volevo acquistare una soundtrack di Final Fantasy che ne ho parecchie a me piacciono molto queste le piano collection ce l'ho del 7 dell'8 del 9 del 10 volevo acquistare le ultime di Final Fantasy 13 e 13 2 al di là che siano bei giochi o meno mi piacciono le soundtrack ma i prezzi erano bassi non ho controllato effettivamente una di queste due condizioni però vai a fidarti io vorrei un collezionismo puro non si può sempre avere e purtroppo i cosiddetti otaku non sono sempre stravicchi da permettersi edizioni costodissime benissimo per oggi è tutto spero di avervi allietato e avervi insegnato qualcosa di più e spero che da questo verrà fuori un prossimo video non so ancora l'argomento se avete dei suggerimenti che non siano i soliti del tipo parla di politica parla della condizione omosessuale in Italia o parla di cose altro ragazzi sono argomenti che mi interessano molto ma mi odio ripetermi lo lascio fare a chi l'ha già fatto in modo buono e corretto anche se sentire l'opinione di molti è una cosa perfetta quindi dopo di questo io vi saluto e ci rivediamo la prossima volta ciao